Buongiorno signori, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Quello che leggete nel titolo purtroppo non è un clickbait, avrei tantissimo voluto fosse così ma non lo è. Quello che oggi vi racconterò spero vi serva da lezione per farvi capire che effettivamente bisogna stare attenti da tutti, anche dalle grandi aziende. E quello che oggi vi racconterò non tratta di un investimento ma di un mancato pagamento. Essendo che anche noi youtuber alla fine siamo un imprenditore, quindi sostanzialmente abbiamo i rischi di un imprenditore. So che molte volte si tende a sottovalutare questo aspetto ma effettivamente c'è ed oggi con voi voglio condividerlo. Non voglio assolutamente fare la vittima, non cerco donazioni, l'unica cosa che vorrei tanto è che guardaste questo video fino alla fine e che capiate la lezione. Così almeno non ci smenate voi e dal mio accaduto impariamo tutti quanti. Partiamo dal fatto che io tempo fa trattavo di tutt'altro e quindi tutto quello che vi dirò oggi non c'entra con questo canale in essere o meglio sì, ma non di questo format e parliamo di 4-5 mesi fa anche se il discorso è ancora in essere. Però le aziende che ho portato nei miei video non c'entrano nulla attualmente. Per motivi legali non citerò aziende o network però vi farò capire chi ha fatto cosa e effettivamente cosa sta accadendo. Non dico nomi, ripeto. Allora partiamo dal fatto che io tempo fa trattando di giochi avevo un bacino d'utenza abbastanza grande e così venivo contattato diverse volte da aziende, da gente strana per propormi cose e cose. Finché un giorno mi contattò un ragazzo che lavorava per un network molto molto famoso, tra i più grandi d'Italia, per network intendo management. Questo ragazzo lo conoscevo di vista, anche lui ha diversi numeri ed effettivamente mi contatta perché lui fa parte di questo network. Perché mi dice c'è questa possibilità dove il cliente finale, un'azienda molto grande, ti manda i suoi prodotti e tu ci fai un video dedicato sui tuoi vari social e ti paghiamo 500 euro. Naturalmente è una proposta fatta bene e per i numeri che avevo era assolutamente giusto il compenso, infatti ci siamo arrivati assieme a questa decisione finale e tutto liscio. L'azienda, non parliamo di un'azienda da due dipendenti, parliamo di un'azienda enorme e un network italiano famoso. Quindi comunque senza troppo pensarci ho accettato ed effettivamente dopo qualche settimana mi arrivò la merce, la merce per fare il video. Naturalmente si trattava di un servizio ottimo e non parlavamo di sponsorizzare cose assolutamente strane e inventate, si trattava di un prodotto molto semplice e già conosciuto in realtà, però appunto proprio per questo mi sembrava avere tutti i requisiti per una garanzia elevata di pagamento. Fatto sta che io questa collaborazione la accordai per settembre 2020 e ottobre 2020 sempre, quindi un mese dopo, avevano già il video già controllato, già visto, anzi ho dovuto fare svariate revisioni, quindi realizza il video, fai delle revisioni, quindi modificalo in base al cliente come lo cercava, e arrivati a prodotto finito, pubblicalo. Quel video era andato anche bene sul canale, all'epoca su TikTok anche spingevo molto di più e quindi effettivamente loro avevano avuto un riscontro elevato da questa collaborazione. Fatto sta che ad oggi, 03 2021, io quei soldi non li ho mai visti e contattando la persona di riferimento ogni volta dà delle risposte che sono vaste. Ah, ma non ti avevano pagato ancora? Ti faccio sapere domani? Quel domani non è, non esiste, devo ricontattarla io, e sostanzialmente ormai mi son dato più che vinto il fatto che i soldi non li veda più. Non è un problema economico, ok? Non mi interessa ora come ora di quei 500 euro, ma è proprio la presa in giro che una grossa azienda, ora non so tra di loro chi è il problema, perché funziona molto diversamente, non è un contatto diretto con l'azienda. L'azienda grande ha contattato un'agenzia, questa agenzia si occupa di influencer marketing. L'agenzia a sua volta ha contattato un network, che nel mio caso era uno tra i più grandi in Italia. Questo network ha contattato me, quindi ci sono tre passaggi di mani, tre guadagni loro, giustamente, e non so alla fine dove ci sia il problema, a che punto, se dalla radice, dalla metà o dall'ultimo. Anche perché io teoricamente, giustamente, dovrei fatturare al network, che è l'ultimo, colui che mi ha dato il lavoro. E quindi, effettivamente, boh, ma la cosa che davvero mi fa ridere è che questa azienda è enorme, è italiana, e boh, cioè se io non devo fidarmi di aziende così grosse, di chi è che mi devo fidare? Un conto che mi venga a contattare un tizio che non ho mai visto, non so chi sia, e mi dice che lavoro per un'azienda che a malapena esiste su Google e mi dà un'offerta spropositata e io vado ad accettarla. Lì me la sto cercando. Certo, per carità, non ho rischiato, cioè non ho messo dei soldi in tutto ciò, però ho messo del tempo, ho messo a disposizione la mia visibilità, è come se avessi un'azienda di cartelloni pubblicitari, l'avessi riempita per tot tempo e nessuno mi avesse retribuito. Io so delle fatture pagate a 30 giorni, a 60, però diciamo che ormai ne è passato di tempo, ma non è nemmeno il metodo, perché posso anche aspettare, però si vede che dall'altra parte palesemente non c'è interesse nel pagare e soprattutto io ho chiesto i dati per emettere fattura, questi dati non sono mai arrivati. Sono sicuro che la fonte sia quella, ripeto, perché la persona di riferimento è una persona che è un influencer, che lavora per TOT Network, per tale network che è famosissimo in Italia e l'azienda la conosciamo tutti in realtà. Quindi davvero, io sono un po' scosso da questo accaduto, scosso nel senso di dire cavolo, non mi posso fidare di sta roba, io di chi mi fido. E non parliamo nemmeno un importo di 10.000, 15.000 euro, perché se fossero stati quelli potrei capire che l'azienda è in difficoltà, non riesce a pagarmi, li ha sbagliato, non è che la passava liscia, nel senso che lì erano discorsi un pochino diversi, perché tutti quei soldi sono tanti soldi, ma sicuramente non ha scuse, non ha assolutamente scuse. Quindi spero che con questo video vi abbia aperto gli occhi, state sempre attenti e se riuscite ad aggiungere compromessi di pagamenti al 50% prima e il 50% dopo il video sarebbe il top, perché se grandi aziende vi fanno sta roba, non oso immaginare aziende un pochino più sconosciute che giustamente hanno bisogno di pubblicità, come si possano comportare? È normale in questo mondo, è normale nell'imprenditoria rischiare queste cose qui, per carità, però appunto ho voluto condividere con voi questa mia esperienza negativa. Ora voglio sapere a voi nei commenti se vi è mai accaduto qualcosa di simile con collaborazioni, magari se siete anche voi influencer, piccolo influencer o in generale, se avete avuto simili problemi, ma è normalissimo averli, se no fatemi sapere in generale la vostra, mi raccomando non tirate a indovinare qual è il network, qual è l'azienda, qual è la persona, è inutile. Non ve lo dico, non voglio dirlo e non ha alcun senso stare lì a diffamare, a fare cose strane, semplicemente io vi ho raccontato l'accaduto così com'è, senza fare nomi, senza fare casini, che è totalmente inutile, anzi si fa solo peggio. Grazie a tutti per il vostro tempo, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.